Allora, sono molto emozionato perché finalmente volete vedere il film che aspettavo da tre anni, da quando Piff me ne parlava un tempo fa, un film di Pierfrancesco Di Riverto e da un certo effetto, insomma. E sono emozionato perché, insomma, so quello che c'è dentro, si ride, si piange, e poi Piff è un collega, un amico direi, insomma, per cui sono veramente molto emozionato per questa prima. Quindi anche tutti voi andate a vedere il film di Piff, che deve essere veramente un capolavoro che mi appresta a vedere. La mafia uccide solo d'estate. Va bene, ok, lo staccare. Ok. Ok, grazie sto cacacazzi. Tre anni per far fin da merda. Salve, un biglietto per fuga di cervelli, grazie.